Fabio, c'è un tipo che mi sta fissando è normale, Michelle, sei bella ti fissa, anche io ti fisserei se non ti conoscessi Fabio, non sto scherzando, ho paura questo qua è un maniaco, guarda va bene, ok, ho capito Fabio Fabio cosa stai facendo? ha funzionato è andato via è andato via, lui è andato via perché è uomo ma con le donne devi vedere e cosa fanno le donne? quando fai così? si lasciano andare più o meno adesso basta, mi scelgo mi scelgo non ci lamentiamo se poi arrivano i ma... scusate che è un periodo difficile Michelle, per favore Michelle! come è che fanno le donne? Michelle! ma Michelle! scusate si è fatti prendere si giri però non rida perché non è vero cosa stai? non è vero non è vero non è vero non è vero no è vero oh non è vero